Comandante, iniziata la stagione estiva e come sempre la Direzione Marittima, la Capitaneria di Porto, incontra i cittadini per parlare di quelle che sono le priorità per una balneazione sicura in spiaggia e in mare. Sì, indubbiamente. L'obiettivo di questo incontro è proprio fare cassa di risonanza e arrivare ai fruitori del mare e delle spiagge. La stagione estiva ormai è giunta, noi siamo già in attività sulla costa e in mare. Il fine è proprio quello di assicurare all'utente un ambiente sereno e sicuro. Comandante, quali sono le raccomandazioni per i bagnanti, per gli utenti del mare? Riguardo ovviamente l'utilizzo del mare, i nostri destinatari di raccomandazioni sono sicuramente prima di tutto i diportisti, a cui raccomandiamo di intraprendere il mare dopo aver controllato attentamente le dotazioni di sicurezza e aver visto le condizioni meteorologiche della rotta che si vuole seguire. Altra raccomandazione è sicuramente ai sub, i quali ovviamente dovranno intraprendere la propria attività solo se in ottima situazione di salute e in compagnia di un altro subacuo, in modo tale che reciprocamente possano darsi assistenza. oltre al segnalamento del galleggiante con bantiera rossa e striscia diagonale bianca che loro devono tenere e mantenersi nei 50 metri, in modo tale da farsi vedere chiaramente dal diportista. Lungo la costa ovviamente le nostre raccomandazioni e controlli vanno verso e chi deve assicurare un servizio gradevole e sicuro. E quindi questa attività è già partita la scorsa settimana dove si è data assoluta priorità al controllo delle stazioni, degli addetti al salvataggio, i quali ovviamente devono avere un brevetto e successivamente, subito dopo, passeremo agli accessi a mare che sono un'altra esigenza di chi ovviamente deve raggiungere il mare.